Buongiorno, io mi chiamo Nasi Clara, sono un'ex dipendente della ditta Pierrotta, che purtroppo in questi giorni ha chiuso. Io sono stata una delle fortunate che è stata riassunta dalla ditta Spring di Torino con me altre 12 lavoratrici. Noi fino alla fine di settembre avremo un contratto determinato e poi a ottobre si spera che con il conseguimento del lavoro ci sia la possibilità di avere un contratto indeterminato per noi 12 e per altri operaie che come me in questo momento purtroppo sono a casa. La ditta è una ditta molto seria, fornisce parecchio lavoro e comunque speriamo che nel futuro ci sia la possibilità per altri miei colleghi che purtroppo in questo momento sono a casa di rientrare a lavorare tutti insieme a noi.